Sabato incontreremo la prima in classifica ma dopo la dimostrazione di sabato che è stata soprattutto una dimostrazione mentale dopo un periodo difficile credo che riusciremo ad affrontare questa prova con coraggio e determinazione sperando di riuscire a mettere in campo quello tutto il lavoro che stiamo facendo durante la settimana quindi sono fiduciosa e vi aspettiamo al palazzetto